Io penso che il Premier Renzi abbia mandato un messaggio forte, che è il messaggio del Partito Democratico a vocazione maggioritaria. Io sono stato tra i fondatori del Partito Democratico, mi sono battuto, mi sono battuto con chi non ha creduto in quel progetto e oggi vedo che si sta realizzando, vedo che finalmente abbiamo un partito che può puntare a raggiungere il 50%, che non deve essere continuamente sotto il ricatto di alleati che ci portano a costruire cartelli elettorali per vincere le elezioni, ma il giorno dopo cominciano a porre condizioni su condizioni, a mettere bastoni fra le ruote per far fallire le coalizioni di governo. Lo abbiamo visto troppe volte, io sono stufo, sono stufo di vedere il centro-sinistra che muore sempre per i ricatti e veti delle coalizioni perché non aveva un partito forte in grado di esprimere quella vocazione maggioritaria. L'ho visto troppe volte, l'abbiamo visto tutti, gli italiani con i governi dell'Ulivo, con Prodi che dava tutto per poter vincere, vinceva le elezioni e dopo appena qualche settimana ricominciava la tiriteira dei ricatti. Ora finalmente abbiamo la possibilità di un partito che possa vincere e possa governare soprattutto.